Il fatto figurare la primavera a Via Reggio, senza poi dimenticare i nostri giocatori storici che stanno dando un grande contributo. Abbiamo un allenatore che è uno dei personaggi più popolari al mondo. Credo che Don Adoni e quei due ragazzi di diventare cinesi sanno benissimo chi è. Io sono non orgoglioso di quello che ho fatto, sono orgoglioso di avere questa squadra e veramente credo che è molto difficile fare di più. È chiaro che il mio desiderio è quello di migliorare e fare sempre meglio. Quella che è la tua impressione è anche la mia. Però questo è quello che fa fare saldo di qualità, questo è quello che ti può permettere a partire all'inizio del campionato di dire posso giocare per la UEFA invece che per la Salvezza. Però i club che hanno cominciato dei progetti sportivi prima di noi e che possono permettersi di dire giocare per la UEFA ne vedo pochi. Perciò io sono molto sereno, sono molto concreto e dico che dobbiamo essere comunque orgogliosi dei giocatori che abbiamo perché stiamo facendo bene. con le difficoltà che ci sono a livello economico nella nostra nazione soprattutto perché soprattutto nella nostra nazione ci sono problemi perché l'Europa va meglio nella nostra nazione non raccontiamoci delle storie, è la nostra nazione che è difficoltà. Stiamo facendo dei risultati ottimi, stiamo facendo dei risultati ottimi. Io sarò magari di parte perché sono il primo artefice di questo ma io non potrei chiedere di più al mio staff e ai miei giocatori. Penso che stiamo facendo in questi tre anni qualcosa di buono. Altro? Grazie. Grazie.